Con questa interpellanza abbiamo inteso mettere al centro del dibattito parlamentare un tema attuale di cui la regina calcio oggi è un esempio emblematico, ossia il rapporto tra la giustizia sportiva e la giustizia ordinaria. E' quanto riferito il deputato regino Francesco Cannizzaro, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervenuto in aula a Montecitorio per illustrare pubblicamente i contenuti dell'interpellanza urgente rivolta al governo e depositata nei giorni scorsi. L'atto del sindacato ispettivo, che porta alla firma pure di un altro deputato del territorio, Giovanni Arruzzolo, era rivolto in particolare ai ministri della giustizia, dello sport e delle imprese. Intendiamo mettere al centro del dibattito parlamentare, ma soprattutto nel confronto tra il Parlamento ed il governo, un tema molto attuale, ossia il rapporto tra la giustizia sportiva e quella ordinaria. Ferma, evidentemente, l'intangibile autonomia di quella sportiva. Però emergono dei casi che richiedono una seria e approfondita riflessione e quindi riteniamo assolutamente necessario che anche il Parlamento debba iniziare un approfondimento sulla questione, con un auspicabile adeguamento del diritto sportivo. Nel caso della regina calcio, che poi è il cuore, l'elemento principe di questa interpellanza in forma urgente, si ha un'applicazione della disciplina sulla crisi d'impresa, che ha comportato, evidentemente per una questione ereditata dalla precedente gestione e quindi per la società sportiva, il dovere di adempiere ad alcuni provvedimenti giudiziari, anche in merito al pagamento dei contributi previdenziali e di riconnessi emulamenti stipendiali. La regina calcio non è stata sottosegretario autorizzata dal Tribunale di Reggio Calabria ad adempiere a questi compiti, a questo dovere, con la motivazione che non si ritiene necessario che questo adempimento possa servire alla continuità aziendale. E qui il paradosso, la lacuna, per quanto ci riguarda, normativa che emerge. L'ordinamento sportivo per il mancato pagamento dei contributi, impedito evidentemente in questo caso dal Tribunale, costituisce un illecito sanzionabile che penalizza la società sportiva, così come è accaduto in queste ore per la società sportiva regina calcio. Oggi, intanto a rispondere in aula per conto del Governo, è stato il Senatore Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali. Mi sento di ringraziare il Governo, ha affermato ancora l'On. Cannizzaro, non solo per l'attenzione data alla vicenda, ma soprattutto perché nelle risposte ho colto un'apertura sulla possibilità di avviare un iter legislativo che vada a colmare le lacune legislative tra due sistemi. Comprendendo quindi che ci possa essere un vulnus, sono felice che il Governo voglia porre una riflessione sul caso. Lo dobbiamo alla regina calcio, dice, in questo preciso momento, ma più in generale al calcio italiano, che deve dimostrarsi al passo con i tempi duri vissuti dal nostro tessuto economico ed imprenditoriale. Oggi questo problema riguarda la regina calcio, che noi lo prendiamo evidentemente come esempio emblematico, ma nel futuro, magari immediato, potrebbe riguardare tantissime società e club del nostro Paese, che qualora si dovessero ritrovare nelle stesse condizioni, è chiaro che ricorrerebbero a quella che è la soluzione offerta dalla nuova disciplina della crisi di impresa. E allora mi piace anche in questa occasione evidenziare e ribadire quanto già detto abbondantemente dal nostro Premier Giorgia Meloni o da anche autorevoli esponenti del nostro Governo in diverse occasioni, soprattutto nella partecipazione delle assemblee nazionali, degli ordini professionali, delle associazioni di categoria. Per ultimo, proprio ieri, durante l'Assemblea nazionale dei commercialisti, dove sia il Premier Meloni che gli esponenti del nostro Governo ribadiscono con forza che tutte le istituzioni, compresa la magistratura, devono lavorare per tentare sempre più di non fare fallire le aziende e di non rischiare di far fallire anche in questo caso le aziende che si occupano di sport. Chiaramente per tutte le conseguenze che ne derivano.